Sono in aeroporto, sono straincazzato, mi sono rifiutato di salire sull'aereo perché non è possibile che io abbia a che fare con degli, diciamoci la parola, imbecilli. Io sabato sarò a Trani al Festival dei Giovani in Puglia, ci sarò non preoccupatevi, vi racconto che cosa è successo. Praticamente un po' di giorni fa chiamo il concierge della mia carta di credito, questi concierge ti facciamo tutto noi, mi fa. Io chiamo e gli dico devo andare a Trani in Puglia, quindi Tokyo, devo andare fino all'aeroporto di Bari, questo mi prenota tutto quant'altro. Io arrivo qua in aeroporto, mi danno i biglietti, guardo, con scalo, cioè lo scalo a Giacarta. Ho detto ma se io devo andare in Puglia lo scalo non può essere a Giacarta. Ecco, che cosa è successo? Che questi giapponesi hanno sbagliato la R con la L, invece di mandarmi a Bari, mi fanno andare a Bali in Indonesia a prendere il sole, non lo so io che cosa vogliono fare. Mi sono rifiutato di salire, adesso vado, faccio una bella denuncia, risarcimento e tutto quanto. Ci vediamo sabato al Festival dei Giovani a Trani in Puglia, aeroporto di Bari. Adesso vado a fare il biglietto. Grazie a tutti.